Quest'anno il CUM Festival ha indagato il tema della ripartenza. Professore, come si riparte? Bisogna partire da un punto nuovo, completamente diverso, perché direi così, il prima era una causa di quel che è capitato, o almeno una concausa di quel che è capitato. Come ogni trauma, anche questo ha delle radici lontane, non piove dal cielo, ma in qualche modo viene, almeno in alcuni suoi aspetti, ma sono aspetti decisivi e importanti, viene sollecitato, mi verrebbe da dire, viene chiamato, viene amplificato da certe condizioni di contesto. Tornare al mondo di prima significerebbe tornare a quel contesto che ha anche sollecitato, chiamato e moltiplicato gli effetti devastanti del trauma che abbiamo vissuto. Quanto incide la sostenibilità sulla ripartenza? Questo è uno degli elementi che incidono in effetti ed è uno degli elementi di cui parlavo prima quando dicevo se tornassimo a prima torneremmo a un contesto che è stato un amplificatore diciamo così della portata traumatica dell'evento pandemico. Nel senso che facevamo una vita insostenibile, potrei dire così molto semplicemente. Facevamo una vita insostenibile, cioè tutto il nostro modo di vita era e in realtà è, continua a essere largamente basato, largamente costruito su delle pratiche che sono insostenibili. Che la pandemia sia stata così devastante ha a che fare con questo insostenibile. Le nostre strutture sociali, economiche e anche psicologiche, antropologiche direi nel senso più complessivo, sono estremamente fragili, sono soprattutto così ridotte all'essenziale, così ridotte ai minimi termini perché la prestazione sia massimale a fronte di un investimento minimale. Dunque professore, che significato diamo alla sostenibilità? La sostenibilità ha tante sfaccettature, infatti si parla di sostenibilità ambientale ma anche sociale e così via. Io direi che il tratto comune è che si parla di sostenibilità là dove c'è un contesto di sfruttamento e questo sfruttamento può essere sociale, può essere ambientale, può essere di vari tipi, ma ha a che fare ogni volta con una domanda eccessiva a fronte di una risorsa che viene mostrata come inadeguata da quella domanda eccessiva. Bisogna rinunciare a qualcosa, bisogna dare qualcosa in cambio a chi ha rinunciato, bisogna che chi estrae valore rinunci un po' a questa estrazione e dunque abbia in cambio qualcosa, qualche vantaggio a fronte di questa sua rinuncia. Bisogna che chi viene sfruttato venga sfruttato un po' meno e bisogna dunque comporre in modo molto complicato, direi certosino, queste esigenze che sono tutte esigenze di una diminuzione, sono tutte domande che hanno a che fare con un cedi qualcosa della tua posizione, rinuncia a qualcosa in nome di qualcos'altro evidentemente, per cui come in ogni negoziazione la difficoltà sta nel trovare dei contrappesi, nel moltiplicare le sfaccettature del problema, nel far vedere che se cedi da un lato puoi forse guadagnare da un altro lato. Questa è la difficoltà e anche il genio dei negoziatori, delle negoziazioni e direi in generale dell'invenzione giuridica. Io credo che la sostenibilità sia in ultima analisi un grande problema la cui risposta è di natura giuridica, cioè invenzione di regole, di meccanismi, di meccanismi molto realistici, molto prosaici, che sanno che se chiedi a qualcuno di inquinare di meno, come come noi stiamo facendo mondo occidentale globalizzato verso la Cina per esempio, dobbiamo sapere che lì ci sarà una domanda di questo tipo, ma noi abbiamo appena iniziato a inquinare e voi inquinate da 200 anni, dunque come la mettiamo? A fronte di una domanda di questo tipo, che non dico sia legittima, ma ha una sua cogenza, ha una sua potenza che la sostiene, bisogna offrire qualcosa, bisogna trovare una mediazione. Questo è direi il lavoro della grande invenzione di diritto, della grande invenzione di regole che ci aspetta, che è la frontiera futura. Direi che il trattamento del problema sociale e ambientale passa di qui, non è un problema sociale, non è un problema ambientale, è un problema di invenzione giuridica di contrapesi, è un problema di negoziazione. Grazie. 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 Grazie.